A poco più di una settimana dalla prima puntata della trasmissione televisiva reality, Leonardo Zappalà parla ai nostri microfoni. Sono stato travisato. I ragazzi della gruppo scout Paterno IV hanno ripulito l'aria ambientale delle salinelle in una settimana circa 80 sacchi di immondizia raccolti. Lunedì a Catania sciopero dei vigili del fuoco etnei. Tra i motivi la carenza di personale operativo e amministrativo sarà presente anche una rappresentanza di pompieri del territorio. I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 34enne di Adrano per truffa, danneggiamento e lesioni personali aggravate in concorso e accusato di aver messo in atto la cosiddetta truffa dello specchietto e investito la sua vittima. 39 persone risultano indagate nel Palermitano per falso e truffa ai danni dell'Inps. Fingevano di soffrire di patologie come la talassemia e riscuotevano le indennità erogate dall'Istituto di Previdenza. Continuano i controlli sul corretto conferimento della raccolta differenziata. Oggi multe elevate a cittadini civili in via Roma e in altre vie del centro storico. Buonasera e ben trovati per questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'attualità poco più di una settimana dalla prima puntata della trasmissione televisiva reality. Leonardo Zappalà, il cantante neomelodico paternese al centro della bufera per la frase che ha proferito sui giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Come dicevo Leonardo Zappalà chiede scusa e lo fa anche ai nostri microfoni. Vediamo. Un lungo post su Facebook ed Instagram dove chiede scusa all'Italia e alle famiglie Falcone e Borsellino. Voglio chiarire la mia posizione scrive riguardo a tutto quello che sta succedendo nei social e riguardo a quello che è successo in tv. A parlare il 19enne paternese Leonardo Zappalà, cantante neomelodico, diventato tiristemente famoso per la frase che ha proferito in prima serata nel programmare ai reality relativamente ai giudici Falcone e Borsellino. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l'amaro, ha detto il cantante, alla domanda di Lucci su cosa pensava di Falcone e Borsellino. Una frase che ha gelato la Sicilia, l'Italia intera. Sono lontani i tempi del silenzio, Falcone e Borsellino sono due icone antimafie intoccabili. Solo aver pronunciato quelle parole ha scatenato contro il cantante paternese una valanga di polemiche, minacce e insulti. Ma è tutta colpa sua? Leonardo Oscar Face, come si fa a chiamare, chi è nella vita? Nel post su Facebook spiega che è stato travisato e chiede scusa, lo fa anche ai nostri microfoni. Allora io vorrei chiedere, e tutta Italia scusa, alla famiglia Falcone e Borsellino. Vorrei chiedere scusa. Comunque, poi vorrei dire un'altra cosa che riguardando l'ambito musicale e l'antimafia. A me mi hanno portato lì per parlare di musica, quando sono saluto sul trono mi hanno parlato di antimafia e non c'entrava niente. Ma tu che cosa pensi della mafia? La mafia è una montagna di merda. E allora perché ti è uscita fuori quella frase? Ma loro mi hanno freindeso. Tu che cosa volevi dire? Io volevo dire che praticamente combattendo questo soggetto chiamato mafia, andavo in incontro anche dei rischi. Quindi però non pensi che se lo meritassi? Non se lo meritassi, dovevano sconvincere la mafia. Quel fatto che tu hai soldi, che cosa vuol dire? Quello è solo un personaggio che io rappresento sui social. Invece la tua vita di tutti i giorni com'è? Io mi diverto con gli amici, esco e tante cose. Quindi una vita normale, tranquilla? Sì, sì, tranquillo. Però tu hai detto che non studi, non lavori, ti dedichi alla musica? Sì, solo alla musica. Io finendo da bambino non mi è piaciuto mai la scuola. Senti, ma sai che cosa è successo? Tu prima mi raccontavi che ti hanno dato un copione e ti hanno detto anche di apparire in quel modo anche nell'intervista. Sì, sì, loro, tutto loro hanno detto. Cioè a me nel camerino mi hanno portato un copione di musica, no di mafia. Un copione di musica, dove ti hanno detto, però tu mi dicevi che ti hanno anche detto di apparire come un personaggio cattivo. Sì, sì, mafioso, mafioso. Un personaggio quindi che richiamaste alla mafia. Ma tu, lo ripeti, sei lontano da questo momento? Certo, io sono sconosciuto della criminalità. Io non ho avuto mai esperienze di niente. Loro quando sono venuti mi hanno detto fai il duro, esci i soldi. Io ovviamente emozionato, l'ho fatto. Nel video si vede anche una pistola. Quella pistola? È un giocattolo. È assolutamente un giocattolo. Per quanto riguarda invece la tua famiglia, insomma, poi sono arrivate tutte queste critiche? Sì, sì, critiche, insulti, minacce. Tu hai fatto anche un post ora su Facebook? Sì, sì, l'ho pubblicato. E che cosa dici in questo post? Che volevo chiarire la mia posizione. Che volevo fare vedere tutto il mondo. Tutto quello che è successo, che sta accadendo sui social, questi articoli. Tutto qua, mi volevo scusare. In città i tuoi amici come hanno reagito a tutte le polemiche? I miei amici sono orgogliosi perché sono finiti in tv. Però neanche io mi aspettavo e neanche loro che succedeva tutto questo macello. Sai che anche la procura di Catania ha aperto l'inchiesta su questa vicenda? Sì, sì, ho letto l'articolo. E questo che cosa ti suscita? Un po' come preoccupo. Ti preoccupa? No. Però dico, tu vuoi continuare solo a cantare? Certo, certo. Solo cantare, divertirmi. Con i miei fans. Ho saputo che invece anche ti hanno chiamato per Gomorra per un casting. Sì, sì. Quindi insomma, in bocca al lupo. Il 13 e il 14 mi devo presentare. In bocca al lupo, per questa esperienza il tuo personaggio vuole essere insomma solo un personaggio? Solo il mio personaggio è mafioso. Ma non mafioso, mafioso. Così, soldi, pistole, ma stop, non c'è più niente. Nella realtà tu sei un'altra cosa. Sì, sì, sono un'altra persona. Leonardo, allora il tuo personaggio che personaggio non è? Il mio personaggio è trasgressivo. Non è mafioso. Nient'altro? Nient'altro, né di più né di meno. Incendio in un'area privata tra via Potenza e via Balatelle. Questo pomeriggio appaternò quest'area utilizzata come un deposito di materiale vario. Fiamme altissime e tanta paura per i residenti. Non chiaro cosa abbia scatenato le fiamme. Sul posto addomare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Sul posto anche i carabinieri e i vigili urbani. I ragazzi del gruppo scout Paternò IV hanno ripulito l'area ambientale delle salinelle. In una settimana circa 80 i sacchi di immondizia raccolti. Noi li abbiamo incontrati questo pomeriggio. Salinelle di Paternò, alle mie spalle l'area ambientale tra le più belle della Sicilia. C'è un'iniziativa importante in questo momento in atto. I ragazzi del gruppo scout Paternò IV stanno ripulendo l'area. Un'iniziativa la loro cominciata già da una settimana. Sono circa 80 i sacchi di immondizia raccolti. Praticamente hanno ritrovato di tutto, come detto, in un'area ambientale tra le più belle della Sicilia che dovrebbe essere salvaguardata. Ma ancora ad oggi così non è. Basta guardare nella zona dove loro ancora non hanno ripulito per capire come si ritrova. C'è veramente di tutto, anche i servizi igienici. Ma noi abbiamo sentito proprio i ragazzi che domenica concluderanno questa iniziativa con una giornata. La pulizia è quasi ultimata. Ne avete raccoltato tantissima di spazzatura. Complessivamente quanti i sacchi? In circa una novantina di sacchi. Perché abbiamo pulito sia la zona esterna che anche la zona interna che ancora è in corso di mano d'opera. Però in questi ultimi giorni, tra oggi e domani, finiremo. Perché la decisione di ripulire le salinelle? Come la penso io, come la pensa il mio gruppo, le salinelle penso che siano uno dei beni maggiori che abbiamo a Paternò. Uno dei beni che non è presente in altri posti. Quindi è necessario valorizzarlo. Ovviamente come è necessario valorizzare gli altri monumenti o gli altri ambienti. Però questo penso che sia molto più degradato e allo stesso tempo da valorizzare per le proprie caratteristiche. Voi non avete pensato a ripulire solo l'interno ma anche l'esterno. Quanto tempo avete impiegato? Circa una settimana per l'esterno. Prima c'era tutta quanta l'erba alta, abbiamo cercato di toglierla, abbiamo fatto un sacco di spazzatura. E domenica poi ci sarà la giornata conclusiva? Giorno 16 ci sarà la giornata in cui c'è la chiusura di questo capitolo, in cui spiegheremo che cosa abbiamo fatto, appunto per sensibilizzare la gente. Ma non avete fatto solo questo, non solo pulizia, voi installerete anche qualcosa all'esterno, che cosa? Sì, delle panche con dei cestini affinché le persone non buttano la spazzatura qua dentro ma dentro i cestini. Il vostro vuole essere anche un invito alla città, un invito a cosa? Beh, un invito a rispettare questa città, cosa che magari a volte viene dato per scontata. Invece noi invitiamo le persone a magari rispettare luoghi come questi, che sono dei luoghi importanti. Complessivamente quanti eravate i ragazzi che avete pulito qui l'aria? Più o meno una decina ci siamo impegnati sia fuori che dentro, in due settimane più o meno. Conoscevate le salinelle? Diciamo, prima ci siamo stati diverse volte con la scuola o per altri motivi, però più che altro ci siamo impegnati a conoscerle più ora, ma ne parlo personalmente. E adesso la cronaca, la polizia di Catania ha denunciato alla procura distrettuale due studenti catanesi di 19 anni per interruzione di pubblico servizio. I due, che frequentano un istituto superiore durante l'orario scolastico, sono entrati in classe a bordo di due scooter accesi scorazzando nei locali. La scena è stata ripresa con uno smartphone e il video è stato poi condiviso online sui social network. La polizia postale di Catania, dopo la denuncia del dirigente scolastico, ha avviato le indagini e ha identificato i due giovani e verificato che al momento il video non fosse stato pubblicato su internet. È lunedì a Catania sciopero dei vigili del fuoco etnei. Tra i motivi la carenza di personale operativo e amministrativo. Sarà presente anche una rappresentanza di pompieri del nostro territorio. Faranno sentire la propria voce lunedì 17 giugno a Catania i vigili del fuoco etnei. Uno sciopero bellebuono indetto dai sindacati di settore, dunque dalla CGL, FNSC, Slu, Ilpa, Conapo, Consal e UBS. Braccia incrociate lunedì e questo per evidenziare i problemi tanti che devono fronteggiare giornalmente i vigili del fuoco di Catania e provincia. Criticità che riguardano soprattutto la carenza di uomini sia a livello operativo che amministrativo, ma anche di mezzi e attrezzature. Carenza di uomini che recentemente ha costretto per ben due volte la caserma adranita a restare chiuse, in quanto non c'erano le unità sufficienti per poter formare il turno. È una rappresentanza di pompieri adraniti, lunedì si regherà a Catania dove è previsto un sit-in alle 9 in sede e dalle 10 un corteo che arriverà nella centralissima Piazza Università. Non solo la carenza di personale tra i motivi dello sciopero. Nel sit-in verranno accesi riflettori anche sulla mancata manutenzione delle sedi di servizio e sulla mancata apertura del distaccamento di palagonia. Come da tempo già sapete la situazione a Catania è degenerata. Siamo in forte carenza di mezzi e di uomini e quei pochi mezzi che abbiamo e quei pochi uomini ormai rimasti siamo proprio allo strego anche delle forze. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che da troppo tempo stiamo aspettando delle risposte che ad oggi non sono arrivate. Vi aspettiamo tutte le sigle sindacali in maniera congiunta allo sciopero che abbiamo organizzato per il giorno 17. Sit-in davanti alla caserma centrale dalle 9 alle 10 per partire poi col corteo che avrà inizio alle ore 10 per andare a finire a Piazza Università. Vi aspetto numerosi, aiutateci ad aiutarti. Questa situazione non è più sostenibile, dobbiamo ricorrere ad avere dei provvedimenti. Il comune di Paternò segnala che dal 17 giugno, quindi da lunedì prossimo al 24 giugno, la posta centrale di Via Teatro resterà chiusa per lavori interni. Sarà potenziata la posta di zona ardizione con doppi turni, cioè apertura mattutina e anche pomeridiana. Ancora la cronaca. I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 34enne di Adrano. L'accusa è di truffa, danneggiamento e lesioni personali aggravate in concorso. L'uomo è accusato di aver messo in atto la cosiddetta truffa dello specchietto e investito poi la sua vittima. I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 34enne di Adrano, Alfredo Restivo, per truffa, danneggiamento e lesioni personali aggravate in concorso. L'uomo è accusato di aver messo in atto la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un'anziana automobilista e tutto è avvenuto in maniera rocambolesca, procurando anche lesioni alla vittima e al figlio intervenuto successivamente. Il fatto è accaduto il 27 aprile scorso a San Giovanni La Punta, quando Restivo, assieme ad un complice ancora non identificato, ha colpito volontariamente con la sua auto lo specchietto retrovisore di una Toyota Yaris, simulando di aver subito un danno alla propria autovettura. ha pretesso quindi la somma di 20 euro a titolo risarcitorio dalla donna alla guida della Yaris. La vittima, accompagnata nella circostanza dal figlio, dopo essersi allontanata dal luogo del presunto impatto, avendo avuto la sensazione di essere stata raggirata e tornata indietro per rintracciare la danita in una via di San Giovanni La Punta, quindi gli ha chiesto la restituzione dei 20 euro, mentre il figlio si era messo alla ricerca di una pattuglia dei vigili urbani. Restivo a questo punto alla guida di un Alfa Romeo 147, nel tentativo di allontanarsi ha investito la macchina della donna, ma anche la stessa donna e il figlio che era giunto in soccorso della madre. I malviventi alla fine sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce, mentre le vittime sono state trasportate in ospedale per ferite riportate fortunatamente non gravi, con prognosi di 10 giorni per la donna e 30 per il figlio. Ma dopo una scrupolosa attività d'indagine, i carabinieri sono riusciti a rintracciare uno dei due autori della truffa dello specchietto, appunto Alfredo Restivo, che è stato posto ai domiciliari. Adesso ci fermiamo per la pubblicità. A dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili, grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo. Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. Da Energreen Power. Offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kilowatt chiave in mano a 3.000 euro più IVA 10%. Per un totale chiave in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kilowatt, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta, proponendo in alternativa un impianto da 6 kilowatt a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro, per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power. Contrada a Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Rientriamo in studio, parliamo di automobili. Secondo l'elaborazione della Centro Studi di Autoscout 24, su basi dati AC, Automobile Club d'Italia, nel 2018, il parco circolante di auto ibride ed elettriche in Sicilia è stato pari a 5.726 vetture, non opposto in Italia, un dato in crescita del 43,3% rispetto alla 2017. Nel dettaglio, le vetture elettriche in circolazione sono aumentate del 24,3% e le ibride del 44,5%, un trend positivo che prosegue anche nei primi 5 mesi del 2019 con valori superiori alla media nazionale. 39 persone risultano indagate nel Palermitano per falso e truffa ai danni dell'Inps, fingevano di soffrire di patologie come la talassemia e riscuotevano le indennità erogate dall'Istituto di Previdenza. Fingevano di essere malati di talassemia per truffare l'Inps e beneficiare così delle indennità erogate dall'Istituto di Previdenza Sociale nei casi di specie. 39 indagati in Sicilia, tutti del Palermitano, a cui le fiamme gialle hanno sequestrato beni per un milione di euro. I 39 risultano indagati per falso e truffa ai danni dell'Inps. Le indagini, delegate dal Dipartimento Pubblico e Amministrazione della Procura della Repubblica di Palermo, sono iniziate dal controllo dei flussi di spesa di enti pubblici risultati anomali confermate in talune attività di accertamento interna degli ispettori dell'Ente di Previdenza Nazionale. Le indagini hanno consentito di portare alla luce una vera prassa illecita che vedeva coinvolte decine di persone residenti a Palermo e provincia, le quali, utilizzando documentazione medica falsificata, hanno beneficiato di particolari indennità economiche spettanti ai pazienti colpiti da gravi patologie del sangue come la talassemia, ma non solo. Grazie all'incrocio dei dati in possesso dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e degli ospedali palermitani, è stato possibile individuare i pazienti che non solo non risultavano iscritti nel registro siciliano delle talassemie ed emoglobinopatie, ma godevano in realtà di ottima salute. Il meccanismo della truffa era semplice e talvolta grossolano. Bastava infatti un certificato medico a nome di medici che in realtà non l'avevano mai sottoscritto e timbri falsi. La documentazione veniva poi presentata all'ufficio IMSS, territorialmente competente, dicono le fiamme gialle. In questo modo gli indagati potevano ottenere l'indennità economica aspettante per legge ai lavoratori affetti dalle patologie che hanno diritto a un'indennità annuale pari alla pensione minima erogata dall'IMS. Le fiamme gialle hanno quindi accertato indebite percezioni per 1.400.000 euro, mentre l'IMS ha avviato le procedure di recupero di parte delle somme illecitamente ottenute. Nei confronti di alcuni di loro, la Procura della Repubblica di Palermo, condividendo pienamente le prospettazioni investigative, ha richiesto ed ottenuto dal competente GIP l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto disponibilità finanziarie, beni mobili e denaro equivalente alla somma finora illecitamente percepita. Adesso una bella notizia per Paternò. È stata premiata la sezione Iblamajor dell'Archeoclub di Paternò, il suo presidente, infatti, l'architetto Francesco Finocchiaro, è stato eletto alla Consiglio Nazionale dell'Archeoclub d'Italia per il triennio 2019-2022. Insieme ad altri colleghi rappresenterà la Sicilia, cercando di dare un contributo innovativo al movimento che si dedica alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale di questo Paese. Desidero ringraziare tutti i soci delle tante sedi nazionali, ha evidenziato Francesco Finocchiaro, presidente delle sezioni e che ha voluto credere nell'utilità della mia candidatura. Un pensiero affettuoso è rivolto alle sedi di Paternò, da dove parte questa avventura, e a Sebastiano Tusa, che ha dato il via proprio il 21 giugno scorso a tutto questo. Lavoreremo per raggiungere nuovi risultati, ha detto ancora all'architetto Francesco Finocchiaro, sempre con particolare attenzione alla lotta ai ladri di memoria, alla promozione di pratiche virtuose finalizzate al recupero dei reperti archeologici scomparsi da restituire alla collettività. E continuano i controlli sul corretto conferimento della raccolta differenziata a Paternò. Oggi sono state elevate multe a cittadini incivili in via Roma e in altre vie del centro storico. Continuano i controlli sulla raccolta differenziata annunciati dall'amministrazione comunale nei giorni scorsi. L'obiettivo è aumentare la percentuale di raccolta differenziata al momento ferma al 40% e scoraggiare quanti ancora non differenziano correttamente, mischiando rifiuti di ogni genere differenziati e indifferenziati. Una prassi purtroppo comune ad una parte della cittadinanza, gli stessi magari che lasciano il sacchetto di spazzatura in strada e poi si lamentano che Paternò è una città sporca. Anche questa mattina sono proseguiti i controlli e diversi cittadini individuati sono stati multati per loro sanzioni da 50 euro. Come già ribadito, la maggiore novità rispetto al passato consiste nel fatto che gli operatori della Dasti non ritireranno più i rifiuti che non sono previsti dal calendario settimanale. Da qui partirà la segnalazione di rifiuto conferito non correttamente fino all'individuazione del responsabile e le prime multe sono già arrivate. Se ci si pensa, rispetto a tanti anni fa, differenziare conviene a tutti, anzitutto proprio ai cittadini. Non c'è più bisogno di scendere in strada e buttare i rifiuti nei cassonetti perché ce li ha più comodo servizio porta a porta, come non c'è più bisogno di tapparsi il naso passando dalle vie della città per evitare di essere investiti dalla puzza dei rifiuti ammassati sotto il sole. Insomma, essere più civili e rispettare le regole serve proprio a tutti. Un invito ribadito anche dal sindaco Nino Naso. È una scommessa che fa tutta la città. Non è una battaglia uno contro l'altro. Ci dobbiamo mettere in destra e lo devono capire tutti così come lo hanno capito tantissimi cittadini civili che stanno facendo il conferimento giusto così com'è. E allora non ci fermeremo. Non ci fermeremo perché il nostro obiettivo non è il 65%. Il 65% è un primo obiettivo che vogliamo raggiungere. Vogliamo andare oltre. E vogliamo dimostrare che la città di Paternò e i cittadini paternosi ce la ci riusciranno. Perché ci riusciranno? Perché già stiamo vedendo che in questi giorni già è aumentata. È aumentata la differenziata. Quindi vuol dire che si comincia a capire diventa un prodotto, i rifiuti diventano una risorsa per tutti noi. Questa è la scommessa che stiamo facendo. Dal punto di vista operativo, la cosiddetta tolleranza zero continuerà, sperando che diventi la prassi. Lo stesso Naso aveva promesso in campagna elettorale di voler raggiungere il 65% di differenziata nei primi tre anni di mandato. A quella data manca un anno e circa il 25% in più di differenziata. È l'assessore all'ecologia Luigi Gulisano a dare ulteriori informazioni e spiegare cosa può essere conferito nel giorno dell'indifferenziata. Bisogna precisare che l'indifferenziata è tutto quello che non si può differenziare. Allora, noi abbiamo i giorni della plastica, i giorni della carta e cartone, il giorno del vetro e dell'allumino, il giorno dell'organico, il giorno dell'indifferenziato. Il giorno dell'indifferenziato si deve uscire solo quello che non si può differenziare. Arrivano chiamate da tutte le parti dicendo ma io ho differenziato bene e mi hanno lasciato il rifiuto perché c'era l'indifferenziato. L'indifferenziato non è tutto il rifiuto. Deve passare questo messaggio perché finora è passato un messaggio sbagliato che è l'indifferenziato è tutto. Non è così. Cari concittadini, l'indifferenziato è tutto quello che non si può differenziare. Facciamo qualche esempio di indifferenziato. Ad esempio la porcellana, la ceramica, i pannolini, gli assorbenti, i mozziconi di sigarette, gli accendini, le siringhe, le lampadine. Questo è tutto indifferenziato. È tutto quello che non si può differenziare. E in chiusura un'ultima notizia. Domenica prossima si terrà anche a Paternola passeggiata in bicicletta Bicincittà organizzata dalla Wisp. Partenza alle 10 da Villa Moncada. Con questa notizia si chiude questo spazio con l'informazione io vi saluto e vi auguro una buon fine settimana.